Allora ragazzi, Goodbye Summer Festival, questa grande manifestazione che viene fatta per la prima volta a Roma per salutare l'estate che ahimè se n'è andata, oddio non ci è mai stata veramente, però noi la salutiamo lo stesso perché siamo persone educate, lo facciamo con un grande evento dove ci sono, mi hanno detto 100 gruppi rock italiani, forse sono di più, non lo so quanti sono, li devo imparare tutti a memoria, peraltro quindi devo studiare. Venerdì 26 e sabato 27 settembre all'ex aeroporto di Centocelle, spazio enorme, ci sarà un mega concerto con delle guest star, con dei divi assoluti della canzone, ne cito tre su tutti, Enrico Ruggeri, Edoardo Bernato, Marco Masini e poi più di 100 gruppi rock italiani e qualche sorpresa e qualche veramente guest star straniera. Venite tanti però perché se no non ci divertiamo, mi raccomando eh! Ciao!